Convocata la prima assemblea del forum dei giovani del comune di Atena Lucana, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Vertucci infatti rende noto che è convocata la prima assemblea del forum dei giovani per il giorno 20 settembre alle 19 in prima convocazione e per il giorno 21 settembre alle 19 in seconda convocazione. L'incontro si terrà presso la Mediateca degli Atinati in via Umberto I del comune di Atena Lucana. Al centro dell'appuntamento la discussione dell'elezione del coordinatore del forum dei giovani. Il sindaco o il consigliere delegato e le politiche giovanili presiederà l'assemblea con funzioni di coordinatore. La convocazione fa seguito alle iscrizioni che si sono chiuse lo scorso 4 agosto rivolte ai giovani interessati a prendere parte come soci al forum comunale dei giovani dopo la delibera di consiglio comunale del maggio scorso con la quale è stato approvato il regolamento del forum dei giovani di Atena Lucana che ha recepito i principi e gli obiettivi fondanti della Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del libro bianco della Commissione europea, un nuovo impulso per la gioventù europea, della risoluzione del Consiglio d'Europa e della legge regionale numero 26 dell'8 agosto 2016. Le iscrizioni erano aperte ai ragazzi tra i 16 e i 35 anni con residenza anagrafica nel comune di Atena Lucana. Ora dunque con la prima assemblea del forum dei giovani si procederà all'elezione del coordinatore.